Diventare comune covid free in concomitanza con la festa patronale. La particolare coincidenza si è verificata a Cassonnovo che nel fine settimana ha celebrato San Defendente. Negli stessi giorni gli ultimi cassolesi ancora positivi al coronavirus sono guariti e si sono raggiunte le due settimane consecutive senza nuovi contagi. Intervallo di tempo convenzionalmente considerato per dichiarare conclusa l'epidemia in una data località. In realtà era dal mercoledì che avevamo tutti gli ammalati risultavano guariti quindi avevano ricevuto gli ultimi tamponi. E' chiaro che per prudenza ho aspettato qualche giorno e ho voluto poi dare la notizia proprio nell'imminenza della festa per nello stesso tempo dare un monito a tutta la popolazione perché comunque non ne abusassero. Ho sempre cercato di rendere la popolazione informata di quello che stava succedendo, ho dato delle notizie terribili e quindi mi sono anche preso un po' un respiro di sollievo informando e condividendo questa cosa con tutti i cittadini del mio paese. In occasione di San Defendente sono state annunciate le benemerenze cittadine che verranno però consegnate più avanti quando si potrà organizzare una cerimonia aperta al pubblico. Il Defendentino d'Oro è andato al personale della caserma dei Carabinieri di Gravellona Lomellina per la vicinanza mostrata alla popolazione nei giorni più difficili dell'emergenza sanitaria e alla memoria di Giulio Mazzini, l'ex sindaco recentemente scomparso. Il programma dei festeggiamenti per San Defendente è stato giocoforza drasticamente ridotto pur senza rinunciare ad alcuni appuntamenti. I rioni infatti si sono sfidati in una caccia al tesoro fotografica, si è anche svolta una sfilata a porte chiuse con la popolazione invitata a guardare dalle finestre delle case. Una scommessa sul senso di responsabilità dei cassolesi dato che c'era il rischio che molta gente scendesse ugualmente in strada creando assembramenti. La popolazione si è comportata in maniera esemplare e il bilancio finale è più che positivo. Il fatto di poter aver messo insieme un minimo comunque di celebrazioni ha consentito di continuare la tradizione e di non interromperla. E quindi la popolazione comunque il tutto si è svolto nel migliore dei modi alla ricerca di uno spicchio di normalità che chiaramente deve ancora arrivare.